e ciao a tutti amici e amiche della quarantena amici e amiche di inside two games a parte gli scherzi raga anche se il periodo non è proprio quello che è per caricare un gioco proprio dove si parla di infezioni e quant'altro ma siamo arrivati finalmente alla demo di resident evil 3 il remake raga io avvio il gioco la demo è disponibile sia per playstation e sia per playstation che xbox e penso anche su pc io vado nelle opzioni raga perché voglio abbassare il volume delle voci anzi le voci le lasciamo altine così abbassiamo il livello della musica raga perché se no il volume degli effetti così ok raga sto parlando di ok io la sto provando per playstation raga e penso che il gioco lo comprerò per playstation proprio perché è un classico c'è avere i resident evil come fate anche il 2 lo presi per per playstation proprio per il fascino che richiamava la playstation ma bla 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 allora raga giochiamo il prodotto finale potrebbe essere differente da questa demo in questa demo non sarà possibile effettuare salvataggi l'epidemia si è diffusa a una velocità impressionante e le strade sono invasi da cadaveri gil sta cercando disperatamente di fuggire dalla città proprio quando tutto sembra ormai perduto ecco che si è tolta la schermata del capitano ora alla signorina serve aiuto e ovviamente la demo già in una fase non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiama avanzata sai che è un membro dell'elite della stars sezione speciale della polizia di raccon city si chiama qualcosa come valentine sono gil piace di conoscerti gil ciao c'è proprio all'americano raga ciao siamo stati inviati qui per soccorrere i civili ok qual è la situazione? eh raga bellissimo la città è stata completamente isolata tagliata fuori e quello che vi dico raga è che a differenza di a parte che ci sono anche i sottotitoli raga la differenza è che questo gioco qui si basa più sull'open world il 2 è bellissimo il fatto che tu sei il poliziotto ringrazio il tuo datore di lavoro eccetera quindi è molto bello eccetera anche quello è un kart per la playstation eccetera però la cosa che più raga intanto io schifo i filmati giusto per noi qua raga ok stavo dicendo raga ok la cosa che mi piacque di più la cosa raga che mi piacque è proprio il fatto che in questo qua in level 3 c'era la possibilità che era un open world cioè quindi c'era l'open world invece il 2 era sì bello raga fatto del poliziotto in mezzo agli zombie ok però era più ambientato nel garage un pochino in mezzo alla strada all'inizio nel remake si va dopo in mezzo alla strada però nel prodotto originale andava c'era all'inizio in mezzo alla strada poi prendiamo le cartucce ok via stiamo in 2 o 6 bla 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 ok quindi era molto è bello però molto molto chiuso in mezzo alla dal 3 aprile 2020 raga la nostra schermata è molto molto bella perchè? perchè è un è un easter egg dentro il gioco del gioco del gioco in sé ehm se clicco fa qualcosa no se gli sparo vabbè e quindi raga era tutto ambientato nella stazione di polizia invece nel 3 per chi l'ha giocato e l'ha finito come me all'epoca sa benissimo che era già un open world quindi abbiamo le possibilità del gioco zombie eccetera con la grafica del 2 eccetera però con il fatto che possiamo anche girovagare per la mappa ok dobbiamo andare al piano di sopra ci sono quasi qual è il piano? il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari vuoi riattivare l'infrastruttore eeeh poi raga mi raccomando e iscrivetevi lasciate un pollicione attivate la campanella condividete il video e seguitemi su instagram e tocca raga vado subito ovviamente la piantina ce la mettiamo qua dobbiamo polvere da sparo il che possiamo combinarla eeeh vediamo un po' il menu abbe questa la mappa per vedere dove ci stiamo spostando eeeh posso già combinare con un'altra polvere da sparo si combiniamo e beh raga tutta esperienza eeeh ok abbiamo creato una polvere che è molto più potente ok raga io mh già so più o meno come si combinano le cose ma perchè è dall'epoca che si può fare così ah se non sbaglio eeeh questi oggetti qui si possono sparare? si quindi raga fatelo anche voi se trovate qui possiamo depositare le cose se trovate qui pupazzetti sia nel gioco completo che in quale la demo provate a a spararli uh eeeh raga eeeh altri sopravvissuti dobbiamo far ripartire il treno eccolo mira stupenda raga eh eheh un classico raga sapevo che non era morto eh eh beh raga devo abituarmi un po' con eeeh un po' con eeeh la mina perchè è molto sensibile poi cioè ti vengono addosso non è che devi sparargli eeeh non è che devi sparargli eeeh non è che devi sparargli proprio dove vuoi devi sparargli in testa eh raga molto bello credo proprio che lo prenderò come regalo di compleanno che mio compleanno raga mi raccomando fatemi tutti gli auguri il 19 d'aprile eh eh sta scena raga ah 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 fanno gli scherzetti come su su playstation eeeh fanno gli scherzetti come su sulla playstation eh fanno finta di essere morti invece raga vi spoilerò che poi dovrei proprio spoilerare però eeeh in poche parole su playstation cioè proprio gli originali resident evil eeeh anche se eeeh spararvi gli zombie eccetera ovviamente qui cerco di di mirare in testa ma proprio per eseguire il cioè per consumare meno proiettili possibili però sulla playstation c'era questa particolarità per chi lo sapeva per la tecnica dell'epoca che i zombie anche che una volta che tu pensavi che li avevi ammazzati e cadevano giù eh non ti potevi avvicinare perchè facevano finta di essere morti perchè non usciva il sangue attorno al corpo quindi continuava a sparare anche al corpo a terra fino a quando non vedevo la chiazza di sangue vabbè questo raga è il retroscena dell'epoca r1 ah eh sì esatto poi raga qui abbiamo anche la la possibilità di schivare che era già ambientato più sull'action questo qui il 3 ok raga io direi di fare una cosa molto utile se riesco a buttare giù eh qualcuno prima che magari sfondano la questo qui che è molto molto in forma ok ok lui se ne sbatte altamente dei miei colpi vabbè anche loro fanno gli scherzetti che fanno finta di essere morti no questi qua erano morti veramente eh raga io li ho buttati giù mi verrebbe anche voglia di buttare giù quelli lì anche se eh eh si raga si possono buttare a terra lo stesso vabbè questo l'ho mancato ma io direi raga se no consumiamo un po' troppi colpi qua ok raga non so se riesco a caricarvi tutta la demo anche perchè non so quante persone vedranno questo video spero intante eccetera però eh non so se riesco a fare tutta la demo intanto noi andiamo avanti un altro po' uccidiamo qualche zombie ah non è il cortellino si vediamo un po' se riesco vediamo un po' se riesco eh vabbè raga fotevano cioè vabbè eh come faccio ah ecco qua con le trecette vabbè intanto andiamo avanti qui lo spegno eh musa eh portello da sopravvivenza musa no vabbè la pistola no il proiettivo no vabbè scommetto che devo tornare indietro per di là dove eh ah su quella che ho ammazzato io raga eh si io li avevo già fatti fuori questi cerchiamo di fare una cosa molto intelligente raga ok eh raga per un attimo sono stato in silenzio e mi sono messo in silenzio proprio per cioè io ho sprecato eh colpi eh eh pensavo che eh eh ho sette colpi raga mi sono un po' eh come combino raga e ormai mi sono un po' mh rovinato sotto l'aspetto dei proiettili perchè adesso doveva andare col coltello vediamo quello che ne esce col coltellino eh un altro prossetto ce lo prendiamo eh raga ma è d'obbligo perchè adesso un altro prossetto ce lo prendiamo eh raga ma se continuo così non riesco qua non ci stanno colpi no è perchè io ce l'avevo i colpi raga ben settati quindi l'unica mia opportunità è vabbè intanto vediamo un po' che ne esce questa già l'avevo fatta fuori un po' non devo sprecare neanche un colpo eh vabbè appena detto eh vabbè raga usciamo da questa situazione ah è vero perchè posso anche schivare eh sì eh no stavo schivando eh no stavo schivando così ci siamo ci siamo un po' così ci siamo ci siamo un po' ok quindi adesso combiniamo tutti e due e abbiamo ok eh ma sento tipo respiro raga non vorrei che uno di questi qua si alza ok quelli fuori restano fuori per fortuna però qui serve una chiave io sto qua a pianta verde eh la tronchete ok raga quindi abbiamo già un po' di 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 immaginazione su cosa fare anche se questo qui non voglio sprecare proiettili raga sennò vabbè io non faccio tipo speedrunner anche perchè cioè non ho voglia di di buttare così la suspense della prova demo andiamo di schivata raga maratuna maratuna raga mi sto buttando proprio per eh così non so neanche se dovevo entrare qua raga mi sa di no ok ok ci mettiamo il coltellino ok morto raga io vorrei far vedere la demo alcuni sviluppi eh beh abbiamo tutti i pezzi allora qui dovevo entrarci raga perchè abbiamo tutti i pezzi ora abbiamo pure la granata ah con il cerchio dietro si fa la girata veloce ok ok polvere da sparo ok uh vabbè capirai raga ok eh scarto raga la polvere da sparo e non posso sostituirla già eh scarto eh ok ok cerco di far più presto possibile raga perchè se non la demon c'è ehm la tempistica dura un po' troppo raga io cercherei di fare una cosa eh non ricordo raga da dove ero passato io ehm non ricordo raga mi sa che era per di qua ehm ehm meno male raga che questi scenari così ehm ho l'opportunità di vabbè dai forza vi faccio vedere anche un po' no beh questa ce la facciamo fuori normale ah no raga non l'avevo visto proprio via eh raga non l'avevo visto sinceramente non l'avevo visto ma sapete raga che io qui potrei fare una cosa invece di eh raga ma dove è sbucato lui ancora guarda ma sono quelli che avevo già buttato a terra o sbaglio eh sono quelli che avevo già buttato a terra ah vabbè io direi di fare una cosa raga proprio velocemente usiamo questa ci prendiamo pure le cartucce per per il fucile vabbè raga ehm io direi adesso di schivare tutto e andar ehm con velocità non l'hanno raga e qua no eh mi sono perso un po' raga perché eh raga si era buggato un po' eh raga a sto punto va vabbè andiamo 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 eh no raga avevo schivato io avevo schivato io ma avevo più che schivato ehm eh no raga avevo schivato cioè se schivo mi dovrebbe prendere se schivo no forse l'ho passato di qua e vabbè raga ma io non posso fare un passo ahahahah vabbè raga è finita così dai vabbè e vabbè e vabbè e vabbè fino adesso ho fatto quello che conteneva i proiettili adesso non più vabbè ormai io c'ho tutto pieno eh raga mi serviva lo spray mi sarebbe piaciuto arrivare lì raga però io sinceramente non ricordo non ricordo per dove ero passato cioè sinceramente raga non ricordo dove ero passato quindi vediamo un po' l'energia come sta eh eh pericolo raga sono morti in poche parole eh l'erba verde raga allora io faccio una cosa scarto come sempre la polvere da sparo e mi prendo la piantina e la uso anche ok però la cosa buffa raga è che oh è bilevato tipo cioè la cosa buffa raga è che io cioè avevo schivato cioè io avevo tutti questi qui li avevo schivati eh vabbè raga qui si va in un'altra zona io raga non ricordo per dove ero passato prima eh raga brevemente cerco di far più presto possibile anche perché volevo farvi vedere dove per dove si arrivava lì che succedeva ok eh qui c'era lo spray e possiamo anche usarlo lo spray raga così ci siamo salvati eh adesso è tutta un'altra situazione raga ehm vediamo un po' io ehm ehm e io ero andato lì non è raga che io ero uscito da un'altra parte adesso non me lo ricordo eh si ecco qua raga ah abbiamo già lui qui dov'è raga io scavo non è raga Eh vabbè vabbè sono morto Sa che devo rifare questo punto Eh sì Andiamo 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 Ho scoperto che andare all'indietro va più veloce Sì Allora facciamo USA Mi sono salvato in qualche modo? Bene Ancora raga Eh vabbè Ah finisce qui raga Ah ok Ok Bene bene raga allora Cerco di caricarvela così com'è Eh senza che sto lì a renderizzare il video eccetera Ah Eh Ve la lascio così com'è Bene raga che dire allora Le promesse per questo gioco sono tantissime Il gioco è bellissimo Eh l'unica cosa che bisogna un po' abituarci si con Bisogna abituare Un po' diciamo i riflessi con il gioco Perché ha una sensibilità un po' tutta sua Eh Il gioco promette bene È come il 2 in una chiave Open world con un po' più di action Perché è giusto che sia così perché 3 Era più action E quindi niente raga Con questa specie di trailer Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia Lasciate un bel pollice nell'insù Attivate la campanella e studiate il canale Per non perdere altri video E Non raga condividete il video sui vostri social Sentitevi su Instagram e TikTok My link su Instagram e TikTok in description I miei link raga li trovate in descrizione Vi ringrazio ancora Alla prossima Ciao Don't move Kendo You're all right You're all right to stretch Stop